Creiamo i nostri outfit bellissimi, zebrata, maculata, marrone, maculata nera, manica con risvolto, sotto costo, sotto costo a solamente amiche 39 euro. Guardate che spettacolo, elegantissima, manica lunga con il bottoncino per andarla a risvoltare, è qualcosa di meraviglioso, correte a confermare, bellissima, elegantissima, guardate il pantalone, è ovvio che è andato a Roma, ma come si può dire no? Qui abbinate qualsiasi delle nostre camice, quale? Eccola qua, eccola qua, beige, crema, oversize, manica tre quarti, giro collo, pazzesca, pazzesca, ripeto voi con due camice, con due pantaloni, con un completo, due pezzi vi rifate tutto il guardaroba a prezzi assolutamente ridicoli. Vi voglio sentire cariche perché qui noi creiamo i nostri look, la mia piace, quella maculata marrone modello Dolce Gabbana, la sorellina è questa qua, la marona è un maculato grande, la nera è un maculato più piccolo, cerniera con chiusura gioiello, sotto costa 45, correte, correte! E, beh amiche, ma queste cifre vorrei ben vedere, vorrei ben vedere, eccezionali. Chiedetemi amiche, io vi aiuto, come sempre, perché sono cose belle a dei prezzi incredibili. No, vabbè, il pantalone amiche, parliamone, ma parliamone, ma 45 euro amiche, ma di che cosa dobbiamo, cosa dobbiamo dire? A questa cifra, con queste caratteristiche, a questi prezzi, non si può, impossibile. Stupende, stupende, chiedete che io vi aiuto. È una favola. Vedo i ragazzi, quale? La verde così? Eccola qua. Verde così, regalata. Verde bello acceso, eh? Spacchetti laterali col pantalone, grazie! La maculata nera e bianca. Pantalone a zampa. Wow, amiche, grazie. Grazie, bimbe. Verde, blu. No, maculata nera e bianca. La maculata nera e bianca. Questa qua, la glicine. Aspetta, eh? Ah, è lì. Eccola qua, è questa. La glicine floreale. È questa qua, signora. Oh! 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 Floreale, viole, glicine. Bellissima. Col pantalone a zampe, quella che avevo addosso un po' di un po' qualche, qualche mezz'ora fa. Bellissima. 39 la camicia, 39 il pantalone, 45 il completo, due camicia, vostra scelta, 60 euro. Correte, bellissime. Non è questa? Allora è questa? Allora è questa? Allora, quella che hai dietro con il giallo interno. Questa? Questa? Ma il problema è che è giallo. Questa qua? Qui ha del giallo. Mi fermi lei, signora, guardi. Mi fermi. Allora, col giallo interno, signora, con la dritta. Questa? Questa? No, accanto, accanto l'altra. Questa? No, anche quella lì, quella lì. Eh, esatto. Questa, no. Amiche, non so come aiutarla. Questa? Questa qui, è giusta, è giusta. Ah, è giusta, è giusta. Questa qua. Bellissima, floreale, 39 la camicia, 39 il pantalone, 45 euro il completo. E quella di prima che trovi del lato, quella lì, quella con il giallo interno è giusta. Ok. Esatto. E la prima che ho fatto vedere è questa. La prima che hai fatto vedere. La prima che ho fatto vedere alla signora... Ma vi, invece del... Ma, giro... La signora, invece, ci chiede una pelle. Allora... Noggiola, voglio provare a te. Noggiola. Liglia Rubensky, si prende una camomile. Lo vediamo molto agitato. Bellissima questa, amiche. Grazie. Questa c'è. Crema, verde, blu e nera. C'è anche nera, che è questa qua. Favolosa. Ma come lo definisco, però che stavo io così. Te l'ho già detto 30 volte. Giro, collo, abarca, manica a tre quarti e metti il colore. Bellissime. 45, due... Non è blu? Sì. Questa qua. Aspetti, è un secondo. Azzurra. Turchese. Bellissima. Perfetto. 45 euro col pantalone. 39 la camicia. Due camicia a 60 euro. Due pantaloni a 60 euro. Amiche, correte. Pantalone a zampa d'elefante. Fighissimo. Da abbinare con le nostre camicie. Fate un completo pazzesco. Regalato, amiche, a 45 euro. Correte. Bellissimo. Bellissimo. Molto elegante. Bella anche questa verde, eh. Favolosa. Magari da mettere... col pantalone verde. Che è molto bello anche questo nuovo. Con risvolto. Amiche, correte. Brave. Vai Marco, vai. C'è molto bello anche questo nuovo. C'è molto bello anche questo nuovo. Allora. Hanno tutte lo stesso codice, Mofi. Immaculata nera. Con la zip. C'è molto bello anche quella che hai fatto vedere prima, quella che hai fatto vedere prima. Quella colore al fondo a scuro. Ok, questa. Che codice ha? Ma lo... Mio Mare. Che c'è!